Ciao Rachele. Ciao, ciao, ciao. Perfetto. Come va? Tutto bene? Tutto bene, innanzitutto grazie mille, io sto cercando di contenere l'emozione perché in realtà io sono cresciuta con la sua voce, quindi in questo... Oh, grazie. Ti ho cresciuto, sono una mia bambina. Assolutamente, assolutamente sì, infatti quando mi hanno detto ah c'è questa occasione, io ho fatto ok, allora sono indecisa, sto morendo di paura e sto morendo di... No, insieme. Muoglio io di paura, non ti preoccupare. Perfetto, questa magari la tagliamo. No, come vuoi. Perfetto, perfetto. Allora, volevo utilizzare questa occasione per permetterci insomma di raccontare il tuo ultimo lavoro, ecco. Il tuo ultimo EP e effettivamente quello che porta dentro, quello che insomma è stato il tuo percorso per realizzarlo. Io, se tu sei d'accordo, partire dal titolo, raccontare magari cosa ti ha portato a scegliere questo titolo e cosa veicola nello specifico. Ma Pseco Donna voleva così fotografarmi, perché poi è un mio viaggio interiore, introspettivo, di riflessioni, di uno sguardo proprio su di me. Ho puntato il faro dentro per vedere un po' le mille, tante sfaccettature, sfumature che lo abitano, che mi abitano e che mi danno anche così i contrasti per le riflessioni stesse. Per cui Psyche in greco vuole dire anima, quindi un disco che comunque mette un'anima a nudo, mi sembrava bello. Poi anche Psyco rientra un po' anche con la follia, che comunque è una parte fondamentale anche per il mio lavoro, per la creatività. Per cui, quindi tutte queste cose insieme. Verà chiude una donna un po' senza mezze misure, ecco, no? Queste tante sfumature, tanti colori, ecco, un'esplosione di colori che hanno bisogno di essere veicolate, di essere capite da me, guardate e poi condivise. Infatti, se non sbaglio, hai definito questo lavoro un dramma in disco. Io sono due, insomma, è una location particolare per un dramma. Sì, sono anche lì, rappresenta i due lati anche opposti, no? C'è una parte un po' drammatica, struggente, no? E la parte invece poi di ballerina, che ama ritmo, un po' pazzarella, che ama ballare, che è molto in movimento. E l'altra più riflessiva, più anche autocritica, no? Più contenuta, diciamo. Esatto. Il primo singolo che io ho avuto modo di ascoltare, insomma, insieme ad altri, è Penelope, fondamentalmente, che è una figura, insomma, letteraria, mitologica, molto interessante. È una figura che possiede la notte, che possiede le mancanze, perché poi si trova a dover fare il suo viaggio notturno. Quindi ti volevo chiedere, te, in che rapporto sei con questa figura, con la notte, con la riflessione? E magari se ti va anche con le mancanze? Ma la notte è il mio habitat naturale da quando sono bambina, per cui studiavo per poi fare scena muta al giorno. Però è un luogo di raccoglimento, dove mi ascolto di più, mi permette di chiudere, in qualche modo bisogna di chiudere un po' con la realtà. Quindi tutto intorno tace, tutto si ferma e io faccio casino. Anche lì vengono fuori i contrasti, no? Cioè, cerco il silenzio per poi fare il rumore, dico nella canzone, perché è un'altra canzone, che è come Harry Stanton. Però è proprio questo luogo intimo in cui mi lascio andare, cerco di spogliarmi delle paure, delle maschere, mi sento più libera e forse anche trovo il coraggio per fare quello che volevo fare, quello che ho fatto. C'era una frase che mi veniva in mente di Pasolini, in realtà quando ascoltavo questa canzone diceva l'indipendenza che è la mia forza, implica la solitudine che è la mia debolezza. Quindi quello che io ti volevo chiedere, effettivamente la notte, no? Il viaggio introspettivo, notturno, porta con sé delle paure, un senso magari di, non lo so, quello che io ti chiedo è in questo tuo viaggio, potremmo dire quasi spirituale, se prendiamo più che come insomma alla greca, insomma come spirito, come anima, c'è anche un senso di paura in questo senso oppure no? Sì, sì, la paura c'è sempre dentro e non se ne andrà mai penso, va veicolata, va anche un po' lasciata vivere, va coccolata, no? Va ascoltata e proprio anche la fragilità che fa paura, no? L'insicurezza, oddio non ce la faccio, cosa, mettersi alla prova anche, no? E lasciarsi andare, come dicevano tanti altri cantatori, ma c'è la paura, però qui la voglio guardare in faccia, no? Voglio che sia, che diventi costruttiva e non autodistruttiva, no? Diventi una forza creativa, insomma, un atto che mi porta anche a un'esperienza di miglioramento. C'è un verso molto interessante quando tu dici, lei crede nel sole, io credo nella confusione. Sì. Molto interessante, per te cosa rappresenta dire credo nella confusione? La confusione che mi abita e che a volte mi spasa, no? Perché, però io sono una persona non ordinata, per cui sono abituata ormai a, così, è come se la butto all'aria tutto, no? In questo senso è anche un voler giocare con tutto quello che ho, no? Non dare un ordine preciso, non avere paura di seguire delle regole, no? Quindi semplicemente seguire se stessi, è questo. E poi quello che dici quando dici che l'ordine non fa per te, l'ordinarietà è l'ordine, no? Sì, sì, ma anche nelle canzoni, io ascoltavo tanto Battiato quando, così, ho iniziato a scrivere, no? Proprio per questa attitudine, alla sperimentazione, a esplorare suoni, senza darsi per forza, no? La struttura anche delle canzoni. Era un viaggio che volevo che andasse da sé, ecco. Sì, assolutamente. Che mi portasse, mi portasse da solo, secondo quello che avevo bisogno in quel momento, per cui mi sono fatta io un viaggio proprio nello scriverlo. C'è un po' di Battiato in questo... Ma sì, c'è sempre Battiato. C'è tutto quello che mi ha sempre affascinato e che, anche tutte le scoperte, no, che ho avuto nel mio percorso, da quando sono bambina e parto con la musica classica, con il piano, per cui c'è molto Bach, no? E nascono le canzoni più o meno sempre al piano, al pianoforte, con i gini armonici e poi inizio a costruire stratificazioni, strumenti su strumenti, incastri, no? Mi piace... Mi sono andata a libertà di spaziare anche nell'elettronica, nelle colonne sonore, nel barocco, con il cavicembalo, con, cioè, nei ritmi, nelle percussioni. Ho giocato molto con tutti... tutto quello che mi rappresenta, che mi piace. Commentando poi, insomma, l'uscita dell'EP con altri fan, una di loro mi ha chiesto, insomma, si chiedeva, e quindi io mi sento di prendere in carico la sua domanda, cosa ti ha spinto, così ti ha dato il coraggio, no? Di far emergere un po' questo inno, in qualche modo, quello che lei chiamava un inno alla libertà, insomma, questo senso forte di indipendenza, di sperimentazione. Se c'è qualcosa che ti ha dato questa forza, ecco. Ma la consapevolezza, credo che abbia, insomma, e l'esperienza anche, no? Forse era un desiderio che... cioè, segnavo la bambina di essere... di fare un disco, no? Poi ho fatto un'esperienza, comunque mi ha rappresentato tanto, mi ha dato gli strumenti che mi sono serviti ad oggi per fare quello che volevo fare. Cioè, sicuramente, quando si tratta di musica, ho delle idee che voglio che siano quelle, ecco, portarle a termine, no? Una visione che non... dovevo avere gli strumenti giusti per farla, insomma, no? Per cui tutta l'esperienza... è come se ho fatto un percorso per arrivare ad oggi. E... è stata un'urgenza mia espressiva di mettermi anche alla prova, di uscire un po' dalla comfort zone, no? Di farmi questo viaggio da sola, che... così. È una nuova anche ripartenza, no? C'è bisogno a volte di rinnovarsi, nuove energie, di mettersi anche così a rischio un po'. Sì, e poi tra l'altro è... la cosa bella è che quando si riparte non si riparte mai soli. Infatti nel disco ci sono ovviamente delle collaborazioni molto interessanti. Per esempio c'è la voce di Meg, c'è Silvia Calderoni, insomma, c'è Chiara Mastroianni. Come le descriveresti queste donne che hanno collaborato con te? Cosa ti hanno portato in questa collaborazione? Ma un disco che parla... quando insomma mi sono resa conto dove andavo a parare, insomma, che comunque era veramente un disco, un racconto mio personale, intimo, no? Come fosse un diario proprio. Ma le canzoni mi hanno richiamato delle presenze, delle voci particolari. Cioè ogni collaborazione non è a caso, ma proprio la richiesta alla musica, no? Cioè Due Ragazze a Roma è una canzone che parla di una storia d'amore e un po' di questi stati d'animo, no? Che cambiano ed ogni momento diverso musicale mi ha richiamato Meg perché lì mi sentivo una parte un po' più dura, ritmata, parlata, no? E un po' ci sento, insomma, un po' anche le lontananze hip-hop in quella musica lì, rapper. Quindi, mentre nel finale è sempre come un finale di un film, eh? Di una colonna sonora per cui il mio amore anche per la Francia mi ha portato a Chiara Mastroianni, che avevo conosciuto. Proprio per questo sapore cinematografico che ha il pezzo. Per cui Silvia Calderoni è la mia parte anche fisica, no? Più nervosa. Cioè ognuna richiama un po', ecco, dei colori diversi. Aspetta, hai chiuso la porta perché sbatte. Scusate. Eccoci. Scusate, no? Sono le interviste casalinghe e bisogna adattarsi. Però sono meravigliose così, eh? Sì, sì. Anche queste. Più vero di così, insomma, no? Qui è la casa dove è nato tutto, praticamente. Per cui... Allora, allora, meglio che si veda, meglio che si veda. Ma infatti una parte molto interessante è anche la sperimentazione che comprende l'elemento poetico, però crudo, cioè nel suo essere elemento poetico, no? È molto interessante, no? Si intravede molto spesso nei brani una forte influenza poetica recitata. Questo fa parte della sperimentazione. Sì, fa parte anche del fatto che sono un po' così... Anche pesante, teatrale in quel senso, drammatica, ecco. C'è quel lato lì che, meno male, poi c'ha bisogno invece di qualcosa di potente, sempre incalzante sotto, no? Quindi degli strumenti che, come si dice, cavalcano in qualche modo, no? Ossessivi o che ribattono, che danno comunque il ritmo, un battito, sempre comunque forte e sostenuto. Sì. E qui il dramma in discoteca si ritorna al... Assolutamente. In realtà c'è poi anche nell'ultimo brano una cosa che mi ha molto colpito in Resistence quando c'è l'invocazione del babbo e della mamma, che ho trovato molto commovente, molto forte, proprio perché c'è questo dissidio, no? C'è questo viaggio interiore con i rumori, perché poi nella vita è sempre così. C'è il disco, c'è la discoteca, c'è la confusione, poi c'è anche il dramma, c'è il dissidio. E in fondo a tutto questo sentire mamma ti voglio bene è stato molto potente. Cioè che operazione c'è stata qui? Eh, direi che in quella canzone poi resistente c'è una fase proprio di... Anche cedimento, no? Di consapevolezza, sentirsi anche persi, no? Aver paura di non riconoscere quello che sei stato. Per cui sono domande che mi sono fatte durante la lavorazione del disco. E c'è questo spontaneo richiamo un po' a quella che sono stata, da dove vengo, no? Quindi anche lì c'è un senso di tornare agli affetti più puri, alla parte di me anche tenera, no? Di cui non avere paura, ma anche quello un po' ritornano i temi un po' dell'infanzia e della quindi rinascita in qualche modo, no? Davvero, davvero. Poi è questo senso di originario, no? Ritornare proprio alla cosa più originaria che hai dentro. Sì, sì, sì. Stai attraversando assolutamente. Riporta anche un po' con i piedi per terra, no? Alla tua realtà, insomma, no? Per ricordarsi anche, insomma, tutta una serie di cose di dove vieni, di il tuo mondo. Assolutamente. E allora, mi piacerebbe in qualche modo concludere questa chiacchierata che è stata bellissima e sono ancora emozionatissima con una domanda che in qualche modo va anche un po' oltre le più perché mi sono detta una volta nella vita capita di incontrare Rachele così e ora la sfruttiamo. Sì, ti piacerebbe... No, ma ci possiamo ritrovare, ci possiamo rincontrare, voglio dire. Adesso era una trappola. Se ripartiamo a girare, forse ci rincontreremo. Magari sì, magari sì. Insomma, dopo questo lungo viaggio che è stato fondamentalmente con SP, di ricerca interiore, no? Se ti senti di aver raggiunto delle consapevolezze in più sulla tua vita, sui grandi temi, insomma, uno si chiede in cosa crede Rachele, cioè se ha delle consapevolezze, se hai raggiunto qualcosa, no? Effettivamente, a livello di consapevolezze. Ma sì, consapevolezza, insomma, anche di aver fatto un disco, no? Che comunque, forse era lì da tempo, mi dà una sicurezza in più, sicuramente. Insomma, mi sento rafforzata e alcune paure, ci sarà tanto altro su cui riflettere, su cui domandarsi. Ci sto ancora lavorando. Però comunque questa la ritengo anche una specie di terapia, no? Perché comunque le cose quando inizia, quando le metti per iscritte è già un passo avanti. Cioè, quando le guardi in faccia le cose è già un passo avanti. Non è mai un punto di arrivo, perché anche così mi va di pensarla sempre in un modo molto aperto, ecco. Non lo so, mi sento un po' più forte, un po' più forte, arricchita anche musicalmente. E' sempre un lavoro, ti porta comunque anche a nuove esperienze, a nuovi incontri, no? Per cui non andare avanti. Andare avanti senza rinnegare niente, ma semplicemente aprendo strade nuove. È molto bello, è molto bello. E io ho finito le domande, quindi... Va bene, no, no, ma sono state belle. Sei stata gentilissima, è stato per me un grande onore poter... Grazie, grazie, grazie. E continuerò a consumare il disco, ovviamente. Ma va consumato, va consumato, perché ecco, è un disco che va ascoltato un po' più... Cioè, capisco che... Anche per farlo, insomma, il tempo ci è evoluto, perché... Insomma, è molto... C'è una parte spontanea iniziale e poi dopo c'è la parte certosina, il lavoro certosino. Sono tante voci che si... Insomma, tante voci di psicodonna che si intrecciano, che si uniscono. Ogni volta emerge un dettaglio diverso. Tanto ieri riflettevo, mentre lo ascoltavo riflettevo sul fatto che tu dici... Mi spavento di niente e poi niente non è, no? Effettivamente quando uno si autoanalizza spesso, oppure quando si trova ad analizzare le proprie paure, la prima impressione che ha è ma questo è niente, perché io devo stare così male? Poi quando vai a scavare scopri che niente non è, fondamentalmente. Quindi mi ha molto... E quella è una consapevolezza raggiunta, ecco, no? Con così la riflessione, con l'esperienza anche, insomma, quello che ti dicevo, no? Di... ecco, uno sguardo più consapevole di chi sono. Esattamente. Ti ringrazio tantissimo. Grazie a te.